Assessore, importanti interventi per il Rio Crinaccio a Fano, di che cosa si tratta? È un'importante risposta che diamo alla comunità di Fano Sud, quindi specificamente quella di Rio Crinaccio, ferita in più occasioni da quelle che sono state anche poi delle alluvioni. Non ultima, quella del 2014, la più significativa, dalla quale abbiamo subito lavorato per uno studio che andasse ad indagare su quelle che erano le attività infrastrutturali da fare per migliorare quella che era la mitigazione delle acque. Bene, oggi siamo, dopo il primo intervento effettuato nel 2017 e nel 2018, oggi siamo al secondo stralcio. Siamo pronti per affidare il progetto esecutivo a gara di quello che è lo stralcio funzionale dalla ferrovia sino alla strada. È un importante intervento anche questo di 150.000 euro che siamo riusciti ad ottenere grazie ad un finanziamento per la resilienza, proprio per la messa in sicurezza e che fa parte di un insieme di interventi che abbiamo annunciato anche nelle precedenti interviste, che erano la frana di Caregnano, piuttosto che il sottopasso di Ponte Sasso, proprio perché l'amministrazione è molto attenta a tutto quello che è un sistema di sicurezza, che va a favore dei propri cittadini. Gli interventi del progetto, come dicevo prima, che riguardavano il tratto dal ponte ferroviario sino alla strada, specificamente riguardano l'eliminazione di questo percorso pedonale, oggi un utilizzato perché di fatto di fianco c'è il sottopasso ed è lì che passano le persone a piedi, quindi questo verrà demolito in qualche modo. Poi ci sarà la parziale demolizione di quello che è questo muretto perché verrà aumentata tutta quella che è la parte, la realizzazione dell'ampliamento della sezione di deflusso. Quindi come vedete qui sotto c'è una parte dove già corre l'acqua. Ecco, questa sezione verrà allargata lungo tutto il tratto pedonale e quindi con un rifacimento, diciamo, della soletta in calcestruzzo armato e anche relativo a quelli che sono i muretti della sponda destra. Oltre questo verrà poi naturalmente ricostituito un muretto che si allinea a quello già esistente di ANAS, per cui ci sarà una messa in sicurezza. Il deflusso si congiungerà a quello invece che abbiamo realizzato nel corso del 2017-2018. Ecco che la pertinenza, diciamo, di scorrimento sarà più ampia. Gli obiettivi di questo ultimo intervento erano appunto per migliorare quello che era la qualità idraulica, ma anche per diminuire l'ostruzione che in questo tratto purtroppo si è verificato negli anni. Oltre questo naturalmente l'intervento sarà un intervento abbastanza veloce perché lo daremo in affidamento entro fine anno per partire con i lavori i primi mesi del nuovo anno.